il barone al che litro è questo? 2 e mezzo su punto diciamo 2 e mezzo barra 3 e non da segni di cedimento se guardate alla vostra sinistra ecco il cedimento ricordiamo che sono le ore? 8 e mezza 8 e mezza abbiamo già cenato e siamo terribilmente ubriachi voi no io e cava voi il barone invece fresco come una rose